Sequestrata a San Nicolo a Tordino dai militari della Guardia di Finanza, un'area di circa 1500 metri quadri all'interno della quale erano presenti, in chiaro stato di abbandono, numerosi autoveicoli a motore fuori uso e parte degli stessi. Accanto ai rottami, diverse tipologie di rifiuti speciali di diversa origine e natura smaltiti sul terreno in presenza di una folta vegetazione che dimostra una evidente mancata manutenzione ordinaria del luogo. In particolare i finanzieri hanno accertato la presenza di 34 autoveicoli, 21 dei quali dotati di targa o telaio. Gli altri autoveicoli erano privi di alcun elemento di riconoscimento, tre ciclomotori di cui uno dotato di targa e due privi di elementi di riconoscimento, nonché diverse batterie di automobili e rifiuti di diversa natura. Oltre al sequestro dell'area e dei rifiuti in essa insistenti dall'attività di servizio è scaturito il deferimento all'autorità giudiziaria di un soggetto per i reati di gestione di rifiuti e di veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali non autorizzata.